Siete voi? Siete voi? Siete voi? Ok dai, ok, ci sta perché comunque oggi la Juve ha fatto comunque una prestazione neanche così tanto maliziosa, cioè nel senso alla fine ha fatto meglio della Lazio. Per quanto mi riguarda la Lazio ha fatto poco, ha fatto niente, ha fatto niente come al solito, non ha fatto niente, non ha quella qualità lì, i giocatori li ha. Immobile, 45 minuti, zero palloni toccati, 45 minuti immobile, tutti con sto giro di sto cazzo, zero palloni toccati. Milinkovic Savic, mamma mia, un altro bidone, quando è entrato, non ha fatto niente. No ma oggi la Lazio era in ferie, la Lazio oggi era in ferie ragazzi. Siete contenti i giuventini? Giusto così. Adesso è giusto aspettare, è giusto aver visto questa partita. A dire la verità non mi fa paura nessuna delle due, cioè nel senso perché se noi giochiamo come cazzo dobbiamo giocare, non ce n'è per nessuno. Vi schiantiamo proprio, vi mangiamo. Se giochiamo come dobbiamo giocare, perché se poi andiamo in crisi iniziamo a giocare di merda, sullo 0-0, magari sul pareggio. Sei un po' l'Inter com'è, no? Sapete anche voi ormai l'Inter com'è. Poi le piglia l'Inter, non le piglia la Juve. Comunque sarà una partita sulla carta bella. Penso la favorita sia l'Inter com'è in questo momento per forza. Anche se la Juve ha quei due giocatori là, Chiesa e Di Maria, che sono preoccupanti, che sono preoccupanti. Detto questo ragazzi, la Juve meritatamente secondo me per quello che si è vista in campo in semifinale contro di noi. Detto niente, detto tutto, io penso che non ci sia nulla da aggiungere. La partita è stata con pochissime occasioni. Più che altro un possesso palla sterile, tutto il secondo tempo della Lazio, veramente. Un possesso palla sterile. Inutile, perché siete una squadra inutile, siete una squadra inutile. A me dispiace per la Lazio, però veramente, ogni volta che c'è da fare quel passo, quello step, non lo fa mai. Però dai, sono contento di sfidare la Juve. E' una semifinale certamente più tesa, più bella, più big matchosa. Un bacio a tutti e sempre forza Inter. Detto tutto, mi sembra di aggiungere un cazzo. Iscrivetevi al canale, subito, se no ve meno.